amici di youtube ben trovati da marco ligueri si è da poco concluso il campionato di serie a più lungo di sempre 344 giorni amici youtube chi l'avrebbe mai detto ma in queste ore si sta già pensando alla prossima stagione la gazzetta dello sport oggi parlava di ronaldo furioso ronaldo è deluso per aver mancato i due premi individuali a fine campionato e voci principalmente da parte della stampa francese e dalla stampa spagnola parlano di un interessamento del paris angermen al fuoriclasse portoghese e pare che ronaldo non escluda la possibilità di cambiare aria la possibilità di giocare con bappé neymar ciao a tutti